Parlo a conclusione dei due giorni che ci ho visto impegnati nel corso del trattamento del paziente critico chirurgico e parlo a nome dei colleghi del Niguarda, del San Carlo e a nome del provider del centro di formazione di Torino. Sono stati due giorni molto belli, abbiamo apprezzato la preparazione degli scienti, abbiamo apprezzato la loro partecipazione attiva durante questi due giorni di corso e abbiamo apprezzato molto la partecipazione e il sostegno da parte di tutti i direttori delle diverse specialità e oltretutto dobbiamo dire che abbiamo apprezzato veramente tanto anche il centro di formazione dentro quale si è svolto per cui spero che ci siano altre occasioni per poter rinnovare questo evento qua e magari anche altri.